La Regione Puglia per la prima volta ha finanziato con oltre 8 milioni e mezzo di euro 102 impianti sportivi pubblici dei comuni della Regione Puglia, quindi una ristrutturazione dell'impiantistica sportiva perché riteniamo che questi siano contenitori sociali, poter dare l'opportunità ai cittadini pugliesi di fare sport in impianti sportivi comunali significa dare socialità, significa fare in modo che i cittadini possano fare sport per avere migliori stili di vita, per nei quartieri popolari e nei quartieri di periferia avere modelli positivi anziché modelli negativi e quindi è un investimento soprattutto sociale che noi abbiamo fatto in maniera imponente perché lo sport significa vita. L'importo ammissibile per ciascun contributo è di 100 mila euro, abbiamo un plafond di interventi che vanno dai 600-700 mila euro, quindi con contributi di cofinanziamento importanti da parte degli enti locali, a piccoli interventi di manutenzione ordinaria. L'obiettivo è quello di cominciare a intervenire sulla riqualificazione funzionale degli impianti che sono patrimonio degli enti locali del territorio per renderli più fruibili a disposizione e beneficio dell'intera popolazione.